Mi chiamo Alessandra Furcas, abito a Serrenti, un piccolo paese del medio campidano, sono una ceramista e faccio questo lavoro da circa vent'anni. Sono cresciuta nella bottega artigiana di due maestri ceramisti sardi e fin da bambina osservavo con passione e interesse il lavoro che facevano, trasformavano l'argilla in bellissime dame in costume della tradizione sarda. Così un giorno quando mi chiesero se volevo provare anche a decorare questi oggetti in ceramica bellissimi, accettai e come presi il pennello in mano per la prima volta mi innamorai perdutamente di questo lavoro. Così frequentai i corsi di formazione e così la passione pian piano divenne lavoro e oggi quella passione e quel piccolo lavoro hanno dato origine alla mia piccola bottega artigiana e appunto prendi il nome di Ceramica Furcas.